Cari lettori, Tex Wheeler incontra Zagor in Bandera. Lo speciale Tex Wheeler di quest'anno racconta quello che in tantissimi di voi volevano, un incontro tra Zagor e Tex. Due periodi storici leggermente diversi, ma con un Tex Wheeler giovane e uno Zagor bello, anzi a notto, si può fare. E un grande ringraziamento va ovviamente al soggetto e alla sceneggiatura di Mauro Boselli, anche i disegni di Alessandro Piccinelli che lo accompagnano in modo egregio. È una storia vera, una storia bella, una storia in cui i due eroi Bonelli di sempre fanno una gran bella figura e riescono a lavorare, fra virgolette, insieme, quasi come padre e figlio, quasi come fosse un vero e proprio testamento dei due, Gianluigi e Sergio Bonelli. veramente una cosa che mi ha fatto emozionare.